Ciao sono Luca Manelli e in questo breve video voglio spiegarti come puoi ottenere dei ferramenti non verticali per cui con un angolo di inclinazione all'interno di un muro perfettamente verticale. La prima cosa che faccio è andare a impostare il muro con una struttura base, imposto uno spessore di circa 50 centimetri e vado a tracciare il muro. All'interno di questo muro vado a inserire una finestra. Una volta inserita visualizziamo in 3d quello che abbiamo fatto e vado a tracciare una sezione che taglia al centro la finestra in modo tale da poter vedere le variazioni che andrò a fare anche all'interno della sezione. Ora mi sposto all'interno della finestra 3d, dal menu opzioni alla voce profili complessi, vado a richiamare il gestore profilo, seleziono il muro e vado a catturare il profilo. Una volta catturato il profilo all'interno dei luci di design vediamo che abbiamo una voce che è relativa al riferimento delle aperture. Il riferimento delle aperture è un segmento che abbiamo in questo caso sul bordo di destra e sul bordo di sinistra del muro. Quello che mi interessa è il bordo di destra che è riferito alla linea di riferimento. Vado a selezionare lo strumento linea e vado a selezionare il riferimento apertura. Mi ci vado ad appoggiare sopra utilizzando il tabulatore vado a selezionare la linea apertura e ora una volta selezionata la vado a muovere. La sposto all'interno della sezione del muro di circa 20 centimetri e confermo con invio. Vado a salvare il profilo, vado a dare un nome al profilo e confermo. Passo alla visualizzazione 3d, questo è il muro e vado ad applicare al muro il profilo complesso che ho creato. Una volta applicato vedremo immediatamente che la finestra si sposterà verso l'interno. Si è spostata verso l'interno di quei 20 centimetri che abbiamo impostato al riferimento apertura. Ora se ritorno all'interno del profilo complesso questa linea la possa eventualmente andare anche a ruotare. Per cui se decido che la voglio andare a ruotare in questo modo, salvo, torno all'interno della finestra 3d e abbiamo ruotato anche la finestra. Se vado ad aprire la sezione questo è il risultato che otteniamo. Possiamo poi andare a effettuare tutte le modifiche che vogliamo nel caso in cui abbiamo la necessità di avere magari un foro vuoto al posto di una finestra con il serramento. Infatti se vado a selezionare la finestra e apro la finestra impostazioni ho la possibilità ad esempio di andare a selezionare le aperture vuote e posso andare a selezionare una di queste aperture vuote. Ad esempio vado a selezionare questo tipo di apertura. In questo modo otteniamo una apertura ad arco inclinata rispetto al muro.